Benvenuti nella seconda edizione di Fortnite Fashion Show, andiamo subito a valutare Anuar best, finisci sicuramente nel video, complimenti, mi piace la fantasia, ti meriti il balletto di ninja Perché, ehi calma calma, fatti vedere un attimo, perfetto, mi piace lo zaino, mi piace il piccone, mi piace la skin Complimenti, finisci sicuramente nel video, davvero davvero bravo, complimenti Il prossimo Mmmmm Mmmmm, una fatina, ci sta, complimenti, complimenti, non so ancora se finirai nel video o no, però sicuramente ci sta, mi piace Allora, mi piace, un ninja ferroso lo chiamo questo qua, mi piace, puoi passare, puoi passare, complimenti Al prossimo, al prossimo, dai dai Picchio, allora, picchio ci tira fuori un set piratesco Vai, mmmmm, va bene, dai, puoi passare, cliché oso, ma puoi passare, puoi passare As 433, allora, mmmmm, il piccone e il zaino sullo stesso set, puoi passare, puoi passare Il prossimo, ci sta, ci sta, ci sta, let's go, avanti il prossimo Mattedark è quello che io chiamo semplice ma efficace, la skin da soldato Complimenti Mattedark, passi, passi Non lo so se sarai nel video ma per ora passi Ragazzi, vi chiedo una cosa, al posto di fare i ritardati che vogliono passare a fianco ai microfoni in mezzo Passate di lato, che così non vi incastrate con me, Dio Cioè dai, le normali regole di passaggio Dai, il prossimo, allora Mangala falce, ma che schifo è, no No, no No, secondo me no Un altro set militare, complimenti Anonimo, complimenti Semcio è ma efficace, mi piace Il prossimo, ci sta No, invece ci sta una vita Guarda Nonostante la skin faccia cagare, tutto il resto è figo, ci sta Complimenti Hai reso decente una skin che non guarderei in ma Cioè, dai, il prossimo, il prossimo Ma che, ma che cos'è? Ma no Ma no Ma no Gli zaini, no Ehi, ehi Sta guardando No, c'è uno che ha fatto il furbo, dov'è passato? Ah no, Entity si è nascosto, ok Infatti mi sembrava che fosse passato Complimenti, Mimmi, mi piace, mi piace Puoi passare, puoi passare Cliceoso, ma puoi passare Vabbè, dai, puoi passare, ma proprio salvato in corner, dai, dai Sono buono, oggi andiamo Vai Posizionatevi e preparatevi a ballare Erika, tu lo sai vero che prima Azere che è stato eliminato con quel ballo Per ciao, allora, aspetta A Noir Beast mi piace Complimenti, complimenti, complimenti Passa avanti Sicuramente Ehi, dove vai? È dall'altra parte che devi andare Vai, vai Esatto As44 può passare Mi piace, mi piace, può passare Il ninja di ferro Ok Il ninja di ferro può passare Questo, no Non è proprio per niente da pirata È da contadini quello La strega di ghiaccio può passare Eh, ho capito dove stai cercando di andare Stai cercando di sfruttare il fatto che il ballo sia figo Mi dispiace, però non ti sedice troppo a questa skin da ricconi Ora vediamo di qua Va bene, va bene Assolutamente perfetto Puoi passare Vabbè, vabbè, vabbè dai Questo è un soldato ubriaco Mi piace Vai avanti Mi piace Però non si dice Cioè, bellissimo Ma non si dice Anonimo Dentro Anonimo 259 Dentro Anonimo 264 Dentro Let's go Eh, ma come fai a dire che sono Anonimo 259 Il ninja di ferro E il soldato militare Dentro Let's go Vediamo cosa ci tirano fuori Deve essere un ballo continuo Non vale un ballo fisso Non serve che lo fai Anonimo ha usato il ballo del set Quel ballo veniva dato nel set di Twitch Quindi mi dispiace Anonimo passi il turno Vai Mattedark dentro AS344 dentro Let's go Anuar tu passi l'arena Quindi vai già lì Dimmi Zarek Ok Mi dispiace Ma ha vinto lui Guardalo È troppo figo È troppo figo Let's go Il primo che mi rubo La prima casella Raga Votate voi Votate voi Let's go Io voto Zarek Raga Zarek Oppure la streghetta Dai Zarek Sono molto indeciso Eh Streghetta Mi dispiace Mi dispiace Ma hanno deciso Hanno deciso All'unanimità Tutti dentro una casilina Devo spiegarvi come funziona Lo sapete già Allora questa è la casella di Erika Questa è la casella di Mattedark Questa è la casella di Zarek Questa è la casella del ninja di ferro Questa è di Anuar Best Ora La persona che si ritrova Con più persone dentro Al suo interno Verrà eliminato Vi ricordo che non potete stare fermi Perché io guardo la minimappa E se vedo gente ferma Non sono per nulla felice Di conseguenza Let's go raga Let's go Iniziate Non dovete uscire Dovete saltare da una parte all'altra Chi è fuori verrà eliminato Stop Mi dispiace Mi dispiace Zarek Mi dispiace Si va avanti Spray Spray Let's go Aspettiamo Sto trovando Avevamo detto la maga Eh no In realtà tanti Avevano detto Il chitarrista No Effettivamente Tutta la chat Ha detto maga Praticamente Zarek Quindi dovevi morire prima In realtà Poglia Ma Anuarbest Ci stupisce Assurdamente Si merita di nuovo Il balletto di ninja È fighissimo È fighissimo Oltre che È la mia skin preferita Ok Ok mi piace Mi piace Mi piace Mi piace Eh 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 mi dispiace Anonimo Però è quello Che mi piace Di meno Yolo Yolo Grazie in cuore Per i 5 euro Dai raga Venite dentro Venite dentro Qua Ok Sapete dove Dovete mettervi Uno al lato Uno in mezzo E uno all'altro lato Qua a destra Raga Anuarbest Per ora Sta veramente Spaccando Forse uno dei personaggi Migliori Che abbiamo mai visto In un'intera competizione Di forno di fashion show Detto ciò Aspettiamo Che voi selezionate La vostra Emote E ci prepariamo Ok Matte dark Ha fatto la pistola Che spara E secondo me Gli si addice Perfetto Ci sta È un soldato Dopotutto ci sta Vediamo Anuarbest Erika Cosa ci tirano fuori Eh Eh Cos'è che ho visto Ah Qua però Un po' Diludiente Eh Qua un po' Diludiente Però eh Vediamo invece Eh Qua un po' Diludiente Sicuramente Matte dark È salvo Matte dark Puoi già prepararti Alla salvezza Mettiti qua Matte dark Qua Ok Rifatele Rifatele Che voglio vedere Fanno cagare entrambe Voglio vedere Quale delle due È la più decente Facciamo scegliere Anche la chat Ok No Fai Il due Del compleanno Ok Sai Sai Anuar Se tu avessi fatto Il GG Che ha fatto lei Avresti vinto Sicuramente Perché il GG Aveva i colori tuoi Raga Scegliete Il GG Di Erika O La tortina Di Anuar Tortina O Tortina O GG Raga Mi dispiace Anuar Però ti sei proprio rovinato Alla fine Se avessi fatto il suo GG Avresti sicuramente vinto Anuar Mi dispiace Tutti stanno votando GG di Erika Tutti ma solo perché Erika Ma solo perché Erika Ok Adesso è tra Matte dark Che Erika Signori preparatevi Let's go Let's go Signori Chi vincerà Questa edizione Vai Il cuore di ghiaccio Ok Questo è difficile Da battere Eh Anche questo è difficile Raga Scegliete 200 metri O cuore 200 metri O cuore Anche questo è difficile Vediamo Eh per me è la cipolla 200 metri 200 Per me è la cipolla Vabbè raga Ha vinto Matte Raga Complimenti Matte Per la vittoria Di questa partita Davvero complimenti Tiraci fuori Un bel balletto Per la vittoria Complimenti Il bello è che Matte Ha vinto Con una skin Semplice Ma efficace Un set semplice Quello del soldato Cioè dopo tutto I colori più basilari Di Fortnite Però Effettivamente ha vinto Cioè Per quanto sia tranquillo Aveva i balletti Più azzeccati Aveva tutto Complimenti Matte Bravo bravo Mi è proprio piaciuto Mi è proprio piaciuto Complimenti Si cambia la lobby Benvenuti Alla nuova edizione Di Fortnite Fashion Show In questa edizione Avremo altri concorrenti Quindi Andiamo subito A vedere Quali sono Codesti concorrenti Allora La prima Erika Che tira fuori Il piccone Uguale al mio Ambra È uno skin È uno stile Già visto Nella scorsa edizione Ma non da lei Quindi va bene Vai avanti Prossimo Si era praticamente identico Se non per il piccone Ma è meglio il tuo piccone Vedremo il balletto Se fai il balletto corretto Sicuro la vinci Allora Mi piace l'arma Ma il piccone Non mi piace Per niente Quindi picchio Mi dispiace Ma purtroppo Devo i spellers Proprio per niente Non ci sta per niente Il prossimo Allora Mi piace Matte Dark Mi piacciono i picconi rossi Mi piace lo zaino Complimenti Passi il turno Let's go Non capisco il piccone Fuori Il prossimo Uuuuh Allora Mi piace Mi piace Bombale mi piace Allora lo zaino Ci sta più col piccone Che con la skin in sé Però ha quel che è di perlato Così come il piccone Ha quel che è di perlato Mi piace Complimenti Puoi passare Allora Per la prima volta Vedo Allora Potete calmarvi Se no vi espello Volete continuare a picconare Continuate che vi espello Forza Allora Ehm Jack Gordon non perdona Ma si Era uno Era uno Che aveva ancora voglia Di picconare Guardate Oh dai regalo Si si ma l'ho visto L'ho visto No no ma Ma io ci vedo benissimo E non è che solo perché guardo la skin I miei occhi vedono solo la skin Vi vedo benissimo Se picconate Ok Intanto Zarek tu guarda Più loro che picconano Allora Card lion Card lion Mi piace Mi piace Puoi passare Complimenti Complimenti Mi piace Let's go Allora Mi piace questo sceico Una delle skin migliori In assoluto Se devo dire Questo sicuramente Finisce nelle skin highlights Perché hai usato Una skin di per sé brutta Ma il set mi piace Proprio la fantasia Detro il set mi piace E lì a superetta Grazie di cuore per l'abbonamento Benvenuto alla famiglia Mi piace Mi piace Complimenti Complimenti Questa skin è un insieme di festività Perché c'è il dia de muerto spagnolo San Patrizio e il mint di Halloween Mi piace Voglia Questa Questa Per quanto sia semplice Per quanto abbia Tra l'altro Lo zaino Dello stesso set Del coso Mi piace Passa pieni voti Se no Sarai nel video Bravo Mi piace Mi piace Bravo Ti meriti Assolutamente Sunshine Allora Ci sta Ci sta Complimenti Ci sta Tutto abbonato Tutto corretto Ma niente di troppo Eclatante Vediamo Eh raga Guardatelo Nonostante questa skin Mi faccia proprio schifo È tutto perfetto Ah la mascherina del diavolo Il pentagolo qua del diavolo Le I picconi infuocati del diavolo Complimenti Mi piace Non ti do il pieno voto Perché comunque Boh Non so se quei picconi Sono dello stesso set Entity vieni pure Non faccia che l'entrò Ai micro Allora Entity vieni Boia Boia Ma questo zaino Non è il suo No non è il suo Questo piccone è il suo? No 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 Toglietemi di qua per favore Grazie Fuori Complimenti Sarai nel video Oh in questa edizione Pieno di gente Stra buono Perfetto Andiamo al prossimo Andiamo al prossimo Occupate ognuno le vostre cellette Let's go Io mi preparo un ballo Con cui verrò a valutarvi Bomb vale E uuuu Va bene dai Va bene Lei Mi ce la vedo a fare questo balletto Nella vita reale Va bene Va bene Va bene Va bene Vediamo È perfetto questo ballo Complimenti 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 No Mi hai deluso No cioè Allora calma Non mi hai deluso Ma mi aspettavo che Feffo lo facesse questo Se Feffo lo faceva sto ballo Assurdo Complimenti Joe Complimenti Davvero bravo Shaco mi piace Allora posso dirti Shaco Torna qua Torna qua un attimo Shaco se tu avessi fatto questo ballo Avresti sicuramente vinto Te lo dico già Eh Dovevi farlo perché no sei ricco Dovevi farlo Però niente Passa Passa Feffolo È un ballo che ci sta Dai puoi passare Allora I colori si addicono Puoi passare Complimenti dai Fammi vedere il ballo No Per carità Va bene Puoi passare Assolutamente no Un ballo da contadini È un È un ballo da contadini Va bene Erika Va bene È un ballo da contadini Raga Raga ditemi Faceva schifo quel ballo con quella skin Oppure no Oh non si Non si contesta il giudice Silenzio No no Fine Rispetto per il giudice Rispetto Feffolo Joe e Xeno passano Passate voi Allora Vediamo un po' Oh questo qua si vuole nascondere Carlion mi dispiace Sunshine passi Entity 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 anche tu sei passato Entity anche tu sei passato Matte Dark E Bomb Vale Dentro Vai Erika passi per ora Bomb Vale e Matte Dark Let's go Ai hai fatto lo stesso balletto di prima Mi sa eh Ma in fondo No Allora niente È eliminato Let's go Let's go raga Let's go Vediamo È la prima volta che troviamo in finale Sei persone con gli emoji Con gli emot Oh ma raga Ma siete capaci di farlo dentro Cazzo Comunque ormai l'hai fatto Quindi lascialo lì Eh mi dispiace Ma devo Ma devo eliminarti Hai fatto due Due cose Mi dispiace Hai fatto due cose Peccato Te l'hai giocata male Perché potevi vincere Eri veramente messo bene Con il mammut eccetera Hai fatto queste due puttanate Che non hanno senso Vabbè Ma anche solo te Erika Muoviti Allora Joe può passare 100% Il guanto di Thanos Ci sta perfettamente Con la sua skin Ti tengo in valutazione Puoi passare Ci sta un sacco Ci sta un sacco Puoi passare Eh allora Vediamo No però ti dico Il tuo Era quello che ci stava di meno Mi dispiace Ma quella roba rossa Non ci stava per niente Let's go Avanti Per la prima Ah no raga 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 Siete in quattro Dovete rifarlo Non mi sono piaciuti Troppissimo Quindi vi voglio Voglio che facciate Qualcos'altro Vediamo Vediamo cosa cacciate fuori Perché Prima è stato un po' Diludiente Vi devo dire la verità Eh niente Fofolo Mi dispiace Non vedo Non vedo Che cosa c'entra questo Purtroppo Fofolo Devi salutarci Mi dispiace Mi dispiace Puoi passare Ok voi Posizionatevi Uno qua Uno qua E uno qua Let's go Dovete tirarmi fuori Una bella emote Vediamo chi tira fuori Le cose che più ci stanno Lo sceico Veramente Ci sta stupendo A me piace un sacco Ok Entity Entity fa questo Ci sta Con i suoi colori Perfetto Quello di entity Sicuro No Ma che è quella merda Io vado col mio sole Ma Ok Siete tra voi due Uno di voi due deve vincere Dovete fare un'altra emoji Guarda Joe Che ti sei salvato in pandan Faceva schifo Quell'emoji È solo che quella di Erika Ci faceva ancora più schifo Della tua Che non c'entrava niente Perché la tua Aveva almeno un senso Di Ora avete di nuovo Un emoji da fare E se È una sfida ardua Perché entrambi sarete nel video Semplicemente Dovete Dovete Tirarmi fuori Qualcosa di buono Il GG Eh era palese Eh mi dispiace Era palese Che vincesse Entity Balletto della vittoria Per il nostro caro Entity Che vince questa edizione Di Fortnite Fashion Show